Sì, molto. Perché 1 a 38 anni firmare per Milan non l'ho visto in tante occasioni se è successo. Non sei 20 o 25, 30, 35 anni. Il stile cambia, il gioco cambia, però lo so cosa devo fare per aiutare, per fare assist, gol, vincere palloni con testa. Lo so cosa devo fare, spalla e spallata. C'è ancora, non c'è problema. Dopo l'ultima partita in America con Los Angeles ho avuto chiamata da Paolo. Abbiamo parlato un po' delle idee, che cosa pensi, come stai, cosa è normale. Però a 38 anni ho avuto più richieste di quando ero 28 anni. Poi è andato avanti, ero onesto, ho detto che cercavo l'adrenalina per farmi uscire l'ultimo adrenalina di me, perché a questa età non è che giochi per economia o qualcosa così. Non era una decisione difficile, perché se mi ricordo bene è l'ultima volta che, quando ero a Milan, non volevo lasciare, ho lasciato senza, senza mio ok. Però la situazione era, era come era e non potevo fare niente. un'amore. A. 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 Grazie a tutti.